Buonasera e ben ritrovati. Per molte coppie c'è il sogno di diventare genitori, mamme o papà. Molto spesso abbiamo sentito parlare di difficoltà nell'adozione. Negli ultimi periodi è nata una moda della maternità suerogata. Cosa significa maternità suerogata? Una situazione in cui una donna si presta a portare a termine la gravidanza per conto di altri, per conto di un'altra coppia. Rappresenta sicuramente un tema perplesso, delicato, con tante zone d'ombra. Tante coppie a Cobaleno desiderano un figlio. Ci sono dei paletti, ci sono delle leggi. Molto spesso queste leggi, a seconda del paese, sono assolutamente diverse. Le vediamo anche in Europa. Cerchiamo di fare ordine, cerchiamo di fare chiarezza perché è un tema molto, molto delicato. Si cerca di andare incontro a quelli che sono i desideri della mamma e dire donna oggi è nel suo DNA percorrere questa strada e cercare di capire meglio. Con chi facciamo? Con la massima esponente anche politica, ovvero la ministra Eugenia Roccella per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Ministra, buonasera, benvenuta. Molte grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti. Allora, io le chiedo subito cosa significa per un bambino avere due mamme o due papà? Perché molto spesso si parla sempre di mamme, di papà, ma non si parla di figli. E quindi anche a punto di vista psicologico cosa vuol dire? Ma un bambino, da quello che dice la letteratura scientifica, nella psicologia, nella medicina, si pensa sempre che debba avere una mamma e un papà, che il meglio per un bambino sia avere una mamma e un papà. Ma questo è anche il normale modo di fare figli, cioè il naturale modo di fare figli. E quindi la maternità e la paternità non sono soltanto biologiche, però sono stratificate nel tempo e hanno un significato molto denso, cioè la maternità e la paternità sono anche un intreccio di cultura, di storia, di simbolico ed è molto complicato entrare in questi ruoli, come si sta cercando di fare negli ultimi tempi, modificandoli senza avere in realtà tutte le conoscenze adeguate, cioè quali sono le ricadute sui bambini? Non si sa. Cioè, che cosa significa? Lei mi ha fatto una domanda a cui in realtà nessuno sa rispondere. Cosa significa per un bambino non avere una mamma e un papà, ma avere per esempio due mamme e due papà? Non lo possiamo sapere, non lo sappiamo, lo sapremo forse tra molti anni. E infatti lo stavo dicendo, forse lo sapremo tra 15 anni, 18 anni, quando questo bambino sarà diventato maggiorenne, vedremo quale sia stato il suo percorso di vita. E le chiedo, nel processo di attaccamento tra il bambino e il genitore, quando poi quest'ultimo è biologico o meno, ecco, che cosa cambia? In che senso? Non capisco bene la domanda. Nel senso che è un processo in cui il bambino si attacca a un genitore, sia questo possa essere biologico. Ecco, cambia se questo genitore non è biologico? No, il problema non è. Io penso che un genitore può essere un ottimo genitore, anche essendo non biologico, anche essendo una coppia gay, possono essere ottimi genitori. Il problema non è soggettivo, cioè dalla parte degli adulti. Il problema è che cosa vive questo bambino non avendo due ruoli differenti, due figure differenti, più che ruoli. Due figure differenti che hanno anche competenze genitoriali diverse. Noi sappiamo, per esempio, cosa significa per tutti noi aver avuto una mamma, essere stati in braccio alla mamma, essere stati allattati. Tutti noi abbiamo, nella figura materna, riponiamo una serie di significati di cura, di protezione, che sono particolari, che non sono quelli che attribuiamo alla figura paterna. Allora, questo è il problema, quindi dalla parte del bambino, come abbiamo detto prima, non sappiamo effettivamente. Quindi non è dalla parte del genitore, che può essere un ottimo genitore, ma questo non significa che il bambino non abbia bisogno di due figure diverse. Aggiungo semplicemente, per un maschio magari, avere anche la figura del padre, che è molto importante nel processo di crescita e di emulazione, perché sicuramente la madre, glielo dico ovviamente con il sorriso sulle labbra, insomma, essendo papà, quanto magari può essere importante anche avere l'altro tipo di figura e avere poi un modello di riferimento. Sì, certo. No, 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 infatti l'ho detto, mi permetto di sorridere, ma ci siamo assolutamente capiti. La figura paterna è che stiamo parlando dell'utero in affitto e quindi stiamo parlando di eliminare la figura materna, ma è evidente che anche la figura paterna è altrettanto importante in altro modo. Ma assolutamente, ma eravamo d'accordo, ecco, era giusto per specificarlo. Sta crescendo il ricorso alla fecondazione artificiale e dall'altra parte crolla il discorso anche delle adozioni. Questo perché è sempre più difficile, diciamo, andare sulla via delle adozioni e magari è più facile quello della fecondazione artificiale o come mai? Questo è intanto perché, per esempio, nel nostro paese non ci sono bambini adottabili. È molto difficile trovare bambini adottabili. In Italia, scusi, non ho capito. Sì, in Italia, nel nostro paese. Perfetto. Quindi in realtà ci si rivolge ad altri paesi, ci sono le adozioni internazionali, ma anche lì è estremamente complicato. Molti paesi che prima consentivano l'adozione internazionale oggi hanno chiuso, oppure ci sono situazioni come quelle di guerra in Ucraina, in Bielorussia, per altri motivi, per motivi politici. Insomma, c'è una generale difficoltà sempre maggiore anche nelle adozioni internazionali. E poi c'è un altro elemento, cioè chi si rivolge alla fecondazione assistita è in gran parte proprio perché vuole un figlio legato biologicamente almeno a uno dei due genitori. E quindi questo è un elemento che in realtà continua, viene negato per certi versi, cioè si dice che il legame biologico non ha importanza, ma poi questo legame lo si cerca ed è anche molto naturale, non è da criminalizzare, semplicemente appartiene a quel bisogno profondo di proiettarsi nel futuro, di sapere di avere qualcosa di te che sopravvive anche alla tua esistenza. Insomma, è il naturale desiderio dell'adozione. Ecco, e quindi mi viene spontaneo dire che c'è da una parte uno sfruttamento magari della portata, visto che in Italia non c'è questa possibilità, si va fuori, magari in altre nazioni possiamo definirle un po' più povere, dall'altra parte c'è anche un mercato della fondazione assistita. Ecco, c'è un rapporto in questo senso tra queste due realtà, queste due visioni? No, c'è un mercato, questo è il punto fondamentale, il punto su cui veramente bisogna fare chiarezza e bisogna che l'opinione pubblica ne sia bene al corrente, è proprio l'esistenza di questo grande mercato transnazionale della maternità soprattutto, ma anche della paternità, della maternità soprattutto, del corpo femminile soprattutto, perché ci sono delle tecniche particolari che sono molto più pesanti per quanto riguarda le donne. Perché bisogna ricordare che quando si parla di utero in affitto, in realtà si parla di due procedure diverse, cioè da una parte si prende l'opocita in genere da una donna e dall'altra si chiede a un'altra di prestare l'utero. Quindi si spezza la maternità in due parti, proprio perché i contratti non possano essere messi in discussione, perché se ci fosse una sola donna che dà sia l'opocita sia l'utero, ci sarebbe più difficoltà poi se la donna ci ripensasse a sottrarle il figlio, perché è evidente che a quel punto potrebbe dire, potrebbe rivendicare la propria maternità. Invece in questo modo da una parte si comprano, perché si riparla di donazione di ovociti, ma è sempre una compravendita, anche perché dare gli ovociti vuol dire sottoporsi a stimolazioni ormonali e a un prelievo di ovociti che insomma è abbastanza pesante per una donna. E quindi si compra l'opocita e l'opocita è quello che attraverso cui si trasmette il DNA. Quindi si compra l'opocita su cataloghi che offrono una serie di possibilità, cioè si sceglie e si sceglie una donna con caratteristiche genetiche brillanti, diciamo, quindi una donna bella, alta, bionda, intelligente, si può scegliere tutto, si può scegliere persino la religione sul catalogo, la religione della donatrice, diciamo tutto. E dall'altra parte invece quando si chiede a un'altra, si fanno i contratti di maternità surrogata, allora a quel punto non ha più importanza che una donna sia alta, bella, bionda, in buona salute, eccetera. È importante che abbia già avuto un figlio possibilmente e che porti avanti la gravidanza nel modo migliore possibile. E questo implica dei contratti molto, molto severi, molto condizionanti, perché bisogna garantire che durante la gravidanza questa donna mangi in un certo modo, viva in un certo modo, proprio perché è una produttrice di bambini in questo caso, non è una mamma che fa la sua vita e pensa al proprio figlio, ovviamente come facciamo tutte, cercando di portare al meglio avanti la propria gravidanza, è qualcuno che sta svolgendo un compito a pagamento per qualcun altro e quindi deve fornire delle garanzie sul prodotto. Senta, facciamo un po' il caso, no? Il papà biologico è genitore, parliamo del caso che riguarda un bambino in Canada da maternità surrogata e figlio di due uomini, ok? Quindi diciamo che solo il papà biologico è il papà, è vero. Le sezioni unite rigettano l'atto di nascita. Ecco, questa secondo lei è una decisione giusta? Ma il problema, l'abbiamo già detto, io non voglio entrare nelle questioni legali che sono complicatissime, perché il mercato è un mercato transnazionale, quindi le legislazioni dei diversi paesi si incrociano, a volte il bambino che nasce e poi diventa un bambino apolide sostanzialmente, quindi ci sono moltissimi problemi legati ai riconoscimenti e così via. Io vorrei proprio mettere a fuoco il problema dal punto di vista, da una parte del mercato e dall'altra dal punto di vista del bambino, perché per esempio, come abbiamo detto prima, è importante per il committente, cioè per il genitore intenzionale, lo si chiama in vario modo, per chi ricorre a queste tecniche, che ci sia un legame biologico con almeno uno della coppia, ma questo legame biologico al bambino, cioè la necessità di questo legame, al bambino in qualche modo viene negata, perché benché in tutto il mondo si affermi sempre di più il cosiddetto diritto alle origini, quindi il diritto di un bambino di sapere di chi sei figlio, da dove vieni, che è anche una domanda molto naturale, sapere quali sono le proprie radici, da dove si viene, e in realtà a chi viene concepito attraverso queste tecniche, queste procedure, questo diritto viene negato. Si parla di interesse, no no, molto chiaro, si parla, e quindi ve le vengo in conto al suo discorso, perché si parla tanto di superiore interesse del bambino, cosa ci riferiamo appunto a questo? Cioè l'interesse superiore, oltre alle origini? Sì, l'interesse superiore del bambino è un punto centrale di tutta la cultura giuridica intorno al minore, l'interesse del minore, l'interesse prevalente del bambino, però poi a volte in nome di questo interesse prevalente si fanno cose strane, diciamo, cioè in realtà poi in nome dell'interesse del bambino a volte si fa più che altro l'interesse degli adulti, cioè l'interesse dei genitori intenzionali, di chi alla fine poi ha pagato, ha sottoscritto il contratto e ha pagato per avere appunto questo figlio. Io penso che invece debba essere tenuto, bisogna tenere conto dell'interesse del bambino a tutto tondo e a partire dall'inizio, non soltanto alla fine per rimediare al danno, perché ricordiamoci una cosa, quando si adotta si rimedia un danno, un bambino abbandonato o in qualche modo impossibilitato a vivere con i propri genitori, che comunque ha bisogno di una famiglia, di una casa e di qualcuno che se ne prenda cura, quindi chi fa questo sta rimediando a un danno. Quando invece il bambino che magari non ha più appunto la madre perché una ha donato, si fa sempre per dire, ma insomma ha donato il figlio e l'altra ha messo l'utero a disposizione, ma per motivi di contratto poi entrambi le figure materne spariscono, quindi un bambino è senza madre per esempio, e lì se il giudice poi vuole, riconosce una seconda figura genitoriale perché altrimenti il bambino è privo di due figure genitoriali, visto che una sicuramente non è biologica, lì il problema è che si progetta un danno, quindi non è che il giudice lo fa per rimediare a un danno, lì quel danno è stato progettato, quindi noi dovremmo andare a monte del problema ed evitare che queste procedure siano possibili. Ricordo che comunque l'utero in affitto, la maternità surrogata in Italia è ancora vietata, è pienamente vietata, è vietata anche la pubblicità della maternità surrogata e quindi bisognerebbe tenere conto di questo divieto. Ministra, mi permette solo di dire che se ne sta parlando ultimamente con il suo intervento e col suo ministerio, cioè col suo avvento, perché sono tematiche molto molto delicate, noi vediamo che in altri paesi, cioè non voglio dire più libertà, forse le leggi sono diverse, ecco, mettiamola in questa maniera, non voglio adesso dire che siano giuste o sbagliate, non mi permetto, però dico che questa situazione si sta portando avanti, io lo vedo anche sui giornali ultimamente, grazie comunque al suo intervento, perché i bambini non chiedono loro di venire al mondo, questo lo decidiamo noi adulti e molto spesso si pensa agli adulti e non ai bambini, io penso che è giusto porre l'attenzione nei confronti loro, di quello che sarà un domani, la loro crescita, lei lo sta facendo con molta dovizia, molta particolarità, no, glielo dico no perché è qui stasera, ma ecco, anche grazie a Carlo Giovanardi che sta sollecitando comunque, più che il problema è la questione e dobbiamo un po' fare chiarezza perché ci sono molte zone d'ombra in questo caso. Sì, senz'altro, lei ha detto più libertà, io vorrei riprendere questa sua definizione perché in realtà c'è più libertà, più libertà economica, si tratta di liberismo e tanti che invece condannano magari il liberismo e il mercato quando sul mercato ci sono semplicemente oggetti, poi invece sono d'accordo con il libero mercato del corpo, del corpo e della genitorialità, quindi è una questione di libertà, ma di libertà di mercato e di libertà di mercato sul corpo. Io voglio ricordare che nel nostro paese invece c'è una fortissima tradizione solidaristica per quanto riguarda la donazione degli organi, del sangue, di cellule e testuti, non è messo in nessun modo, neanche un rimborso, neanche quando si tratta di interventi anche impegnativi, per esempio la donazione del midollo, e questa tradizione che è importantissima perché è a fondamento di quell'idea di solidarietà sulla vita, nei confronti della fragilità, delle persone malate, delle persone bisognose e questa tradizione per me non si può poi infrangere quando si tratta di genitorialità. Sì, sono d'accordo. L'ultima che le chiedo è dove le idee sue, dove il suo ministero sta andando, verso questa direzione che abbiamo indicato, cioè quello che abbiamo poi discusso in questi 20 minuti, di porre molta attenzione, molta calma, magari anche con delle, non dico tavole rotonde perché ovviamente siete al governo, però ovviamente puntando sulla parte della legge. Guardi, c'erano già nella scorsa legislatura due proposte di legge depositate in Parlamento, io penso che in questa nuova legislatura una proposta di legge per rendere il reato di utero rispetto reato universale, alzando le pene in modo da renderlo reato universale e quindi da consentire che sia perseguito anche all'estero, sicuramente può essere un intervento, insomma, ma da parte del Parlamento che da fare e che vandrà sicuramente avanti in questa legislatura. È stata veramente molto gentile e cortese del suo tempo, la ringraziamo, quando vuole parlare di questi discorsi siamo sempre disponibili, le porte sono sempre aperte. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Ministra, buon lavoro e buona serata. Continuiamo ovviamente a parlare, facciamo il punto però con questo servizio. Coronare il sogno di avere dei figli per le famiglie arcobaleno significa spesso ricorrere alla maternità surrogata, a cui ricorrono anche coppie eterosessuali. L'utero è un affitto, come le tante altre pratiche di fecondazione assistita, sono i metodi venduti a prezzi altissimi dove alcune donne si prestano in cambio di soldi a portare in grembo embrioni. In Ucraina la guerra non ha interrotto il business della maternità surrogata, sempre più donne si offrono di partorire a pagamento i figli di coppie provenienti da paesi dove questa pratica è vietata. Mentre l'Europa è divisa fra chi vorrebbe regolamentarle a quanti invece la vorrebbero abolire, la recente affermazione delle sezioni unite della Cassazione e del cosiddetto utero in affitto ha scritto essere pratica che offende in maniera intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane. La Cassazione ha così negato conseguentemente l'iscrizione all'anagrafe di un bambino commissionato all'estero da una coppia di omosessuali italiani come figlio di uno dei due committenti. La materia è davvero complessa. Gli italiani che ricorrono alla gestazione all'estero sono per circa l'85% coppie eterosessuali, per il 10% coppie omosessuali o persone single. Due donne riescono ad avere un figlio attraverso la procreazione medicalmente assistita all'estero utilizzando i metodi di inseminazione intrauterina o fecondazione in vitro e successivo transfer embrionale, ovodonazione o embriodonazione. Avere un figlio per una coppia di due uomini significa invece ricorrere ad una donna per ottenere un tipo di gestazione che è consentita solo in alcuni paesi. Costruire una famiglia in Italia per una coppia non eterosessuale può essere estremamente complicato. Come possono allora le coppie omosessuali o i single soddisfare il loro desiderio di maternità o di paternità? Quali implicazioni esistono nel ricorso alle tecniche di procreazione assistita? Il percorso delle coppie omosessuali dei singoli italiani è ancora oggi molto tortuoso e oneroso anche quando vanno all'estero per risolvere il problema. Si tratta di percorsi lunghi e molto costosi ma tutto questo ha delle ricadute sul benessere dei nascituri. La struttura della famiglia condiziona la qualità dei rapporti al suo interno. Quante sono oggi le famiglie omogenitoriali in Italia? Il problema sono propri dati sparsi e poco chiari. La maternità surrogata è un argomento pieno di emozioni e opinioni che divergono e indipendentemente dal modello la maternità surrogata rimane controversa. Buonasera a Carlo Giovanardi. Buonasera, ben ritrovato. Sì, buonasera a voi. Siamo sempre noi, eccoci qua. E allora, Giovanardi, abbiamo parlato con la Ministra Roccella di Maternità Surrogata. Ecco, qual è l'idea? Che idea ha della maternità surrogata? Intanto partiamo dalla nostra legislazione, dalla nostra Costituzione, dalle leggi in vigore e dal fatto che chi ricorre al cosiddetto utero in affitto in Italia per la legge italiana è un criminale, cioè commette un crimine. La Corte di Cassazione, nella recente sentenza a sezione unite, ha espresso parole di fuoco nei confronti dell'oltraggio che si fa alle donne attraverso questo meccanismo e di quanto sia offensivo della morale e della dignità dell'uomo e delle donne questa pratica. Il problema è però che poi la stessa Corte ha tirato in ballo la Step Child Adoption e, come sappiamo, un principio secondo il quale quello che è immorale, è illegale e illecito, rischia poi, attraverso i passaggi successivi, tirando in ballo questo supposto interesse superiore del bambino, a dare poi agli stessi genitori, quelli che comprano il bambino, non quelli veri, perché sia ben chiaro, ci sono casi recentissimi in cui quei signori che vanno ad acquistare il prodotto, molte volte non sono né padre e le madri per la legge italiana, perché, come credo la Ministra abbia giustamente illustrato, la madre vera è quella che ha partorito il bambino per la legge italiana, il padre vero è quello che ha dato il seme, ha dato la materia prima per secondare l'aurore. Le due donne che sono parate a casa del bambino non sono nella madre, ne sono delle due, la madre del bambino, e nel caso dei due uomini sicuramente nessuno dei due è la madre, perché è stato partorito da un'altra donna. Quindi il cortocircuito che viviamo oggi è quello che la Cassazione, se sono unite, ha bollato come immorale, illecito e anche criminale, e poi come conseguenza ne viene che, attraverso una serie di passaggi, il bambino che viene comprato viene dato a questi signori e a queste signore. L'ultima cosa che voglio dire, è importante, attenzione però, non è vero che non si sappia che cosa succede a questi bambini che si ritrovano due padri o due madri, perché sappiamo benissimo che c'è una suggestione in Italia di uomini e donne fatte da migliaia di persone che a suo tempo vennero abbandonate negli orfanatrofi e che sono stati educati in famiglie adottive che vogliono tantissimo bene al padre e alla madre adottive ma che passano la vita a cercare di chi sono figli. C'è una precedenza. Guardi, le vediamo anche in tanti talent show, li vediamo, questi poveri ragazzi che vanno alla ricerca della madre e del padre, possiamo anche dire. Le registriamo, sono venuti in Parlamento, sono venuti in Commissione Giustizia e quando ho chiesto anche direttamente a loro ma come avete 60, 70 anni? Magari la vostra madre avrà 80 anni, 90 anni, ma perché voi avete questa esigenza così sentita? Avete i genitori adottivi? Gli avete voluto bene? Gli volete bene? Eh, tutti rispondono che la loro insopprimere, da non poter sopprimere questa loro esigenza di sapere di chi sono figli, di cercare di chi è veramente il loro padre, la loro madre e il loro padre. Quindi noi abbiamo già sul campo la sperimentazione che non è assolutamente vero che un bambino che si ritrova con due padri o con due madri o comunque senza sapere che il suo vero padre o la sua vera madre vive una situazione normale. Purtroppo vive una situazione totalmente non normale e credo che nessuno di noi possa immaginare senza avere tutti quelli che hanno avuto un padre o una madre. a tutti, però non a tutti. È molto chiaro. Giornavi, mi attende ovviamente qualche istante e torniamo a parlare di questo discorso molto ridicato subito dopo la pausa. Sappiamo che la maternità surrogata è vietata in Italia dalla legge sulla progettazione medicalmente assistita articolo 12 la legge 40 del 2004 che punisce chi realizza organizza e pubblicizza ogni forma di maternità surrogata in cui la gestazione viene per conto d'altri. Giornavi, 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 assolutamente cercano di sapere di che sono figli e parlo di migliaia di persone in età avanzata che hanno questo rovello assolutamente giustificabile di sapere chi sono. Ora, mi rifiuto di credere che un bambino che si ritrova con due padri e senza nessuna madre non si ponga a un certo punto della sua vita il problema di dire ma chi è mia madre? Chi è che mi ha messo al mondo? Chi è la mamma? Chi è quella che tutti i soldati del mondo quando si sono trovati in battaglia hanno invocato magari nel momento in cui erano feriti o viceversa che si trova con due madri e non si ponga il problema di dire ma mio padre di chi è? Di chi sono figlio io? Chi è mio padre? Che sono domande talmente naturali che credo sia negare l'evidenza nel dire che non c'è nessun problema quando uno va a scuola quando va a giocare in una squadra di calcio quando frequenta gli altri bambini a dover spiegare che lui la madre non ce l'ha o se ce l'ha è sparita e che c'ha due persone dello stesso sesso che in qualche modo non vogliamo usare il termine l'hanno acquisito non vogliamo usare il termine comprato lo hanno ordinato da qualche parte ma guardate siamo io sostengo che dobbiamo guardare avanti e non tornare alle folie del passato perché queste cose qua richiamano qual era la schiavitù nell'antica Roma richiamano la guardia di secessione americana 1860-65 600.000 morte per far passare il principio che non si potevano tenere gli uomini schiavi allora diciamo che la ministra Ruccella ha parlato di mercato ha parlato che non si poteva fare quello che voleva noi siamo andati avanti abbiamo escluso per questioni di civiltà questa forma per la quale uno poteva dominare gli altri uomini in base al potere senza andare a rivangare il passato andando su quello che è il presente ci si può ritornare per far capire questo lo fa capire qual è l'esempio le volevo dire la ministra Ruccella ha parlato di mercato senza andare adesso a toccare quelle che sono il mercato le dico quello che è oggi la vita civile il fatto della libertà di essere delle unioni fondamentalmente le unioni di fatto le coppie a cobalè non le chiamiamole come vogliamo si nega in questa maniera faccio l'avvocato del diavolo la possibilità di avere un figlio ecco lei come la pensa su questo io la penso io penso che i contratti e le offerte pubblicitarie che vengono fatto e cioè che il bambino naturalmente costa di più a seconda del materiale genetico che viene selezionato di chi poi farà la gestazione e della perfezione stessa del bambino perché una delle cause naturalmente oggi dell'adozione della difficoltà di adottare dei bambini e che bambini adottare possono essere anche malati possono avere dei problemi fisici possono avere una certa età invece in questi contratti il bambino è perfetto perché se il bambino non nasce perfetto viene eliminato viene abortito è come comprare un'automobile è come andare a comprare un animale da compagnia ma stiamo parlando di essere qua stiamo parlando di mercato nel caso in cui uno dei genitori è biologico cioè che è proprio il bambino padre o la mia madre nel caso che uno dei due è la stessa cosa perché anche se un genitore è biologico il prodotto che nella grande maggioranza dei casi ci possono essere delle eccezioni che deve essere consegnato deve essere un prodotto che corrisponde a determinate condizioni sia nell'ovulo che viene fecondato che deve essere appunto come è noto di una persona alta bella intelligente con un cosiddetto intellettivo alto con determinate caratteristiche di salute chi fa la gestazione invece può essere del terzo mondo perché è un forno che poi deve scodellare il bambino questa è la vera madre che gli viene tolto nel momento del parto per darle due committenti e tutta questa questione è una situazione di mercificazione totale come è scritto la Cassazione perché la Cassazione torna a dire non cent'anni fa un mese fa ha detto parole di fuoco contro questo mercimolo allora se ripeto una roba illegale immorale illecita offensiva per la donna offensiva per il bambino come facciamo poi invece come conseguenza di dare il bambino a questi fra virgolette criminali secondo la legge italiana che lo hanno commissionato all'estero io penso che non so se esista ancora perché non mi sono occupato della la donazione spontanea o anche il mercato del seme lì forse si va con un NN un X quindi senza sapere chi è per diciamo il proprio desiderio da parte di una donna di avere un figlio cioè così si nega cioè Giovannanti parliamoci chiaro vediamo anche in tanti asili che sono queste le cosiddette no le ragazze mamma venivano chiamate una volta adesso non so se si usa più questo questo concetto in cui si ha la mamma e non si ha il papà ma guardi che a parte il fatto che in maniera naturale i figli sono sempre nati quindi persone che nascono da ragazze o da donne che poi non hanno un compagno o comunque vogliono crescere il loro bambino e fanno benissimo a farlo e fanno benissimo a non abortire e fanno benissimo a riempirlo da fette noi non stiamo parlando di questo noi stiamo parlando di un mercato noi stiamo parlando di tariffe 100.000 150.000 200.000 euro a seconda del prodotto che viene ordinato stiamo parlando di un mercimonio stiamo parlando non di disgrazia per cui può capitare a chiunque di perdere i genitori in un incidente automobilistico o per malattia o di trovarsi solo nella vita qui stiamo parlando di orfani di padre o di madre programmati a tavolino e basta andare a vedere anzi prego chi ci sta ascoltando di farlo di andare sui siti specializzati a vedere i deplianti patinati con le offerte delle procedure per poter comprare questi bambini compreso appunto le tariffe più alte a seconda che il prodotto viene garantito di un certo livello a me sembra veramente di essere a livello a livello surreale quando facevo riferimento alla schiavitù parlavo di roba di mille anni fa parlavo del 1860 andatevi a rileggervi quello che diceva Jefferson Davis e tutti gli stati sezionisti del sud per giustificare la schiavitù per dire che la schiavitù era giusta e che se gli stati del nord non volevano la schiavitù la brogassero pure ma non venissero togliere la libertà dicevano agli stati del sud America di mantenere gli schiavi ma io pensavo che dopo la guerra di secessione americana e l'intervento di Lincoln questo discorso fosse stato superato e cioè questa possibilità di una sorta di schiavitù degli uomini sugli uomini delle donne sugli uomini fino ad arrivare ad approcciarsi a quello che in Italia è un reato io credo che si debba arrivare anche nei pochi paesi al mondo pochissimi che consentono la maternità surrogata a rendere il reato universale e quindi uscire da questa situazione surreale illecita abnorme e garantire veramente nel superiore interesse del bambino a tutti i bambini di crescere e di avere una crescita equilibrata con un padre e una morte Giovanni un attimo solo perché voglio introdurre Antonella Nuzzaci che è docente docente all'Aquila buonasera Nuzzaci ben ritrovata buonasera buonasera a voi grazie 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 a lei sempre per aver accettato il nostro invito si parla ovviamente di bambini ecco lei svolge un ruolo fondamentale quello di educare di insegnare all'università diciamo giovincelli per dirla così però sempre sotto il profilo dell'educazione e quindi volevo capire ecco secondo lei che ruolo può svolgere l'educazione e soprattutto che deriva stiamo prendendo allora io non so quali derive si stiano prendendo però sono fermamente convinta che l'educazione possa dare un contributo enorme all'educazione di genere al cambiamento che l'educazione di genere sta fermando si stanno fermando nel corso del tempo io non credo che il problema sia solo di dotazione nativa io credo che sia un problema di identità e di comportamenti che gli adulti prevalentemente più che i bambini adottano fin da quando i bambini sono piccoli il genere non è solo un problema di dotazione nativa è anche un problema di cultura è anche un problema di diciamo di contesto sociale perché al centro secondo me dell'educazione del genere c'è il rispetto dell'individuo e non voglio entrare in una questione che non non mi riguarda ma mi riguarda invece che cosa significa rispettare gli individui le differenze i cambiamenti e l'educazione del genere può agire come azione preventiva soprattutto nei confronti lo abbiamo detto molte dell'intolleranza nei confronti delle differenze allora partirei da un altro presupposto quanto gli adulti sono consapevoli di questioni così complesse come quelle di cui stiamo parlando questa sera e allora come pretendiamo che i bambini possano orientarsi dentro queste questioni indipendentemente da chi la pensa in un modo o nell'altro se gli adulti stessi non riescono ad avere quegli elementi che permettono di valutare anche criticamente la realtà io penso che l'educazione ha un specifico scopo quello di essere in grado i bambini di leggere interpretare la realtà questo può fare non dargli ricette io sono contro le ricette contro sono contro tutti quegli elementi di prescrettismo si deve non si deve la pedagogia è già troppo impregnata di prescrettismo pedagogico quindi penso che il problema che problemi come questi che interessano l'esistenza dell'uomo e quindi anche l'esistenzialità dell'uomo debbano essere trattati con molta attenzione e cura quello che penso personalmente è diverso da quello che pensa la scienza e da quello ognuno ha una sua opinione del giusto è certo è normale voglio tornare un attimo da Giovanardi ecco sull'educazione voglio coinvolgere a Giovanardi sì adesso io cerco di tradurre quello che la professoressa diceva allora su una cosa siamo perfettamente d'accordo nella mia battaglia pensando esattamente come me per quanto riguarda l'utero in affitto la gestazione per altri sono schierate amiche come grande avvocato cassazionista Alessandra Gracis che era Alessandro Gracis adesso è Alessandra Gracis perché ha cambiato da uomo è diventata donna convintamente e io rispetto profondamente la sua decisione abbiamo un ex interente di Arci Gay di di Piacenza lei militante lo sono tutti che la pensa esattamente come ha messo l'utero in affitto quindi dal punto di vista del rispetto delle scelte personali degli adulti che possono essere omosessuali possono essere lesbiche possono essere transessuali non c'è nulla da dire quello che siamo perfettamente d'accordo il problema è quando si va attorno ai bambini il problema è quando si passa da questa scelta esistenziale rispettabilissima al fatto di voler imporre a dei bambini a dei neonati di non nascere da un padre e da una madre di non avere una loro crescita equilibrata con una figura paterna e una materna e che mi viene a raccontare che non c'è l'istinto materno quelle donne che partoriscono i bambini non hanno una loro caratteristica da sempre nei secoli nei millenni che è l'amore delle mamme per i loro figli anche padri amano i loro figli ma se permettete in una maniera diversa non li hanno partoriti non hanno quel rapporto che fa straordinaria le donne nei momenti in cui come spose come madri come nonne hanno questa caratteristica di empatia con i loro figli dire che tutto questo non esiste e quindi che due uomini possano benissimo svolgere il ruolo di padre e madre o non essendolo o che due donne possano benissimo svolgere il ruolo di padre e madre o non essendolo è un'utopia è una cosa non vera del resto l'ultima sentenza di Bari su quelle due donne che sono andate a procurarsi bambini all'estero e che stanno litigando furiosamente tra di loro furiosamente su questa bambina di un anno e mezzo una non la vuole far vedere all'altra eccetera eccetera con il tribunale che dice ma hai il diritto di vederla io vorrei sapere questo bambino bambina di un anno e mezzo o due che si ritrova con due donne di cui nessuna delle due è la madre perché è stata partita da un'altra in America nessuno dei due è il padre perché il padre è il donatore di seme si trova dentro una risa fuoribonda fra due donne su questa bambina se può avere una crescita equilibrata una domanda che pongo è molto chiaro insomma il suo pensiero e il suo concetto ne riparleremo più avanti grazie grazie Carlo Giovanardi alla prossima grazie grazie a voi buona buona sera e allora Tonella Luzzaci rimane un attimo con noi e diamo la buona sera a Donatella Di Serio Francesca Mardarella buona sera buona sera buona sera ciao ragazze allora Donatella per capire quella che vedete alla vostra destra Francesca prego la regia di rimettere di inquadrarle ok ecco Francesca è quella diciamo mora a sinistra ok allora ragazze voi siete una coppia e non non liticate come spero come la coppia che ha citato Giovanardi di Bari assolutamente no ma vi conosco e quindi nella mia linea più totale non penso no per ora no per ora allora abbiamo sentito nella mia parte la ministra Eugenia Ruccella e il pensiero di Giovanardi è chiaro e allora voglio andare avanti sentendo quello che è l'altra parte noi abbiamo fatto sentire le opinioni di due diciamo politici e e voi diciamo che adesso volevo capire quello che è la vostra unione perché voi siete mamme di una bambina che si chiama Nina ok prego la regia di rincuotarle perché sono ok perfetto eccolo qua allora io volevo insomma sapere da voi la vostra storia quindi che raccontiate quello che insomma quando avete deciso beh di unirvi voi professionalmente anche lavorate insieme siete due fotografe di ottimo livello avete una società che si chiama di con zero e insomma fate foto anche ai bambini quindi voi insomma già avrete a che fare con i bambini degli altri allora avete deciso di avere una bambina ecco ci spiegate come è stato l'iter cioè da quando avete deciso vi siete messi in moto quello che si può fare in Italia quello che hai riconosciuto in Italia Francesca e poi Donatella allora diciamo che l'iter è partito in realtà da una una cosa molto naturale nel senso che come tutte le coppie noi dopo quattro anni ci siamo sposate e abbiamo iniziato scusa dove Francesca ci siamo sposate a comune di Fiumicino comunque sono vicino a Roma ok esatto e diciamo abbiamo iniziato la nostra vita da sposate come tutte le coppie coniugate come tutte le coppie e credo che tanto naturalmente col passare del tempo abbiamo sentito la necessità di allargare il nostro amore nel senso che è di avere un figlio esatto abbastanza naturale avere poi questo questa voglia questo desiderio appunto materno da parte di tutti e due nel nostro caso di avere una famiglia di poter allargare che cosa cosa avete fatto poi e quindi abbiamo iniziato a informarci e ovviamente in Italia non è possibile fare l'inseminazione eccetera l'inseminazione per donne single o per coppie e quindi abbiamo preso contatti con una clinica in Spagna devo dire che non so se siamo state fortunate noi oppure per tutti così non abbiamo trovato nessun tipo di ostacolo in Italia nel senso che tutto il nostro percorso è stato fatto in Italia tramite medici italiani tramite cliniche italiane ospedali italiani che hanno i controlli quindi stai parlando una volta che è stata fatta l'inseminazione sì ma anche prima sono stato durante la parte del della parte clinica dei controlli della manipolazione insomma esatto ci sono delle cose che vanno fatte prima subito prima e subito dopo e e poi siamo andati in Spagna solo per diciamo per la fecondazione proprio l'impianto Donatella sei tu la persona che insomma è stata fecondata e è andata in Spagna per procreare Nina per dare la luce Nina esatto come è stata poi dopo la procedura lì la registrazione e poi quando siete venute in Italia allora arrivata in Spagna è stato tutto molto semplice nel senso che lì sono molto abituati a questa tipologia di interventi quindi ci hanno accolto subito molto bene siamo rimaste cinque o sei giorni in Spagna lì a Malaga e fatta poi fatto l'impianto e siamo tornati in Italia quindi tutto il resto dell'iter poi è stato seguito dai medici italiani quindi la nostra ginecologa ha seguito tutta la gravidanza quindi diciamo a parte questa parte appunto per cui bisogna andare per forza all'estero tutto il resto è stato fatto qui in Italia oggi come siete riconosciute perché ovviamente tutta la mia parte verde ovviamente sul mercato che c'è sulla maternità sua erogata l'utero in affitto abbiamo parlato molto anche di questo poi siete una coppia siete sposate riconosciute e siete andati ovviamente a procreare in Spagna siete tornati quale leader anagrafe anagrafe è il primo problema nel senso che all'anagrafe il riconoscimento da parte dell'altro genitore se dello stesso sesso è problematico dipende dai comuni e non è tutelato dalla legge ecco quindi il riconoscimento in realtà è stato fatto da me in ospedale con per fortuna lì abbiamo trovato dei medici insomma che ci sono venuti incontro per cui invece di mettere la solita dicitura di madre single senza mi ricordo com'è comunque con padre sconosciuto una cosa del genere loro hanno cancellato questa parte e hanno aggiunto tramite fecondazione assistita avuta con la coniuge Francesca Mardarella quindi però lì insomma sono stati molto disponibili no ma questo a Roma ma non ha alcun valore diciamo è stato scusami non ho più per capire tu hai partorito a Malaga no no ho partorito a San Camillo ok scusami non avevo capito San Camillo di Roma perfetto questa dicitura c'era stata consigliata dall'avvocato perché poi appena nata Nina è iniziata diciamo tutta la procedura da parte mia per l'adozione di Nina e quindi questo era uno dei passaggi che ci aveva consigliato di inserire perché poi sono tutti i documenti che si portano in tribunale la richiesta di adozione è stata accolta quindi adesso è solo questione di tempo burocratico perché passi all'anagrafe quindi di fatto Nina è figlia di entrambe come comunque la corte di cassazione poi ha consigliato la stepchild non per entrare poi in argomenti politici che è la prossima domanda Francesca infatti diciamo che la corte di cassazione l'ha approvata sostenuta e ci sono diverse più e più diciamo situazioni in cui è stata accettata infatti non siamo l'unica cosa diciamo ormai è all'ordine del giorno che avvenga questa adozione quello ci sono stati dei problemi perché poi non vengono riconosciuti i parenti di chi adotta invece ormai rimaniamo sui genitori e poi dopo i parenti vediamo un attimo allora Antonella Luzzaci una sentenza che citava appunto Francesca italiana stepchild adoption ha riconosciuto il rapporto consolidato tra il minore e la madre ovviamente adottiva in questo modo viene riconosciuta l'adozione di una delle bambine insomma Francesca ha spiegato molto bene da parte della compagna una sentenza che apre diciamo la strada a tutte altre coppie come loro Antonella io penso che non è un problema di sentenza ancora una volta non è un problema di legislazione o non è solo quello quanto la qualità dei rapporti che si produce che si producono all'interno dei contesti familiari il genere richiama anche questo richiama la capacità io vedo queste due persone serene tranquille e questo mi rassicura moltissimo perché si va al di là della legge cioè quello che conta io credo per i bambini sia la serenità la tranquillità la capacità di porsi in un atteggiamento di libertà all'interno dei nuclei familiari perché sono i bambini poi a farsi i bambini come i ragazzi i futuri adulti a farsi le proprie opinioni e una famiglia che lascia questo va al di là della sentenza la sentenza sicuramente apre una strada importante alle possibilità realizzative di famiglie arcobaleno ma anche di famiglie che in qualche modo si evolvono nel tempo la famiglia si è evoluta nel tempo ha assunto tante forme e ha previsto tante forme di relazioni e qui abbiamo assistito proprio a questo cambiamento e dobbiamo accettarlo con grande entusiasmo a partire proprio dalle cose che ci sono state dette dobbiamo imparare a rispettare gli altri per me questo è il mio punto di vista naturalmente allora Donatella e Francesca vostra ovviamente è un'unione civile ecco cosa rispondete io do ovviamente il diritto di replica un po' anche alle critiche che possono emergere anche no ma non solo in questa trasmissione ma tutti i giorni il fatto che magari non si ha una figura paterna o nel caso di una coppia di due uomini non si ha la figura materna liberi mi faceva sorridere Giovannardi che parlava di maternità come se fosse poi anche lui una potesse essere una madre e diceva chi può essere madre chi se lo sente chi no ecco non è proprio così cioè ora Francesca non è meno madre di me io non sono più madre di Francesca solo perché ho portato Nina in grembo sarebbe bello poter uscire da questi schemi aprire a un tipo di amore diverso all'ascolto dei bambini perché anche quello è importante cioè si parla molto di questa tutela dei bambini e poi i bambini si ascoltano poco per esempio adesso Nina è una bambina piccola c'è un anno e mezzo però è una bambina molto serena io spero che questa serenità le resti noi speriamo di aiutarla il più possibile in questo poi ci sono un sacco di cose dicono tante cose anche sul mercato dell'utero in affitto su l'inseminazione i costi e tutta una vendita in realtà non è proprio così cioè io quando ho scoperto ad esempio che l'uomo che ha donato il seme che poi ci ha permesso di avere Nina lo ha fatto come una persona in Italia va a donare il sangue cioè è questo cioè questo è donare permettere alle persone che hanno dei desideri ad aiutarli senza lucrarci senza cioè c'è stato da parte vostra diciamo un acquisto ecco diciamo così no nessuna tipologia di acquisto diciamo che quello che noi abbiamo speso lo abbiamo speso per l'avvocato dell'adozione per le cure ormonali che non sono passate in quanto coppia omosessuale ragazzi io avete detto una cosa importante no l'ascolto del bambino e la ministra nel primo blocco la parte diceva dice si saprà tra 15-18 anni no quali saranno i risvolti molto spesso magari la vita ci importa una coppia uomo-donna non ascolta i bambini ci gioca poco e voi avete detto che la serenità di questa la vostra bimba ovviamente la vedete serena ed è importante capire cioè secondo voi questa è la domanda è solo un discorso no di attenzioni di ascoltare il bambino in questo caso Nina e quindi di andare incontro alle sue di esigenze o sono magari tale mentali nostre dire no alla fine sono solo le figure di una madre di un padre cioè più un discorso nostro mentale o anche culturale perché poi si fa anche oggi stiamo parlando ovviamente di mercato e di leggi però c'è anche tanta cultura dietro a questo quindi è un discorso solo nostro culturale o è secondo voi un discorso di attenzione al bambino un discorso culturale ed è una cultura in cui Nina e gli altri bimbi dovranno comunque crescere e affrontare quindi come diceva la professoressa sicuramente quello che conta di più è la serenità io personalmente non cioè Nina non ha una mamma e un'altra che prova a fare il papà Nina ha due mamme e tanti amici parenti zii uomini che le danno un riferimento maschile è questa la cosa quindi io penso che più che una questione di imposizione è una questione di intelligenza e tutte le cose se affrontate con sensibilità e intelligenza forse si riescono a gestire nel modo corretto possono esserci due donne che litigano come questo è banale quello che sto dicendo perché è la prima cosa che poi uno dice per difendersi come due uomini certo come una coppia di uomo e donne è chiaro ragazzi sto in chiusura voglio dare l'ultima battuta Antonella Nuzzaci non si deve avere paura dei cambiamenti bisogna affrontarli e leggerli in maniera appropriata non bisogna avere paura delle differenze bellissimo bellissimo Antonella grazie di questa chiusura insomma ci porta in alto con lo spirito andare avanti penso che le nuove generazioni possono impersonificare quello che è questo pensiero del cambiamento non bisogna avere paura di una cultura che sta nascendo e che dobbiamo portare sempre di più avanti senza retaggi o schemi mentali grazie Antonella Nuzzaci come al solito Antonella ci ritroveremo prossimamente grazie ragazze per il vostro supporto per la vostra testimonianza un abbraccio a Nina grazie a Francesca e Donatella bene siamo arrivati al termine di questa puntata grazie per l'attenzione ovviamente come al solito l'appuntamento lo diamo alla prossima settimana e buon proseguimento con Cusano Italia TV grazie a tutti